Buongiorno, come state oggi? E' questo che si crede che non è venuto e che si è credo l'escolto legittimo del latino? Eh, sono stato in Italia, sapete, il Festival di Milano e anche la Feria di Napoli Ciao bro! Ma che sei tu? Che ne sei? Ordineamente cazzo! Eh, dai, preferisco qui E dimmi, come va tutto per voi? Signore, disculpe la tardanza, non ho tanto tempo libero con voi Ah! Aleman, danke! Grazie per accompagnarmi per fin a una junta Però è che io vieno perché quise, non hanno che invitarmi Ok, d'accordo Insolente Italiano! Mi piace molto! Otro che sei digna venire Sono venuto dopo il Festival di Milano Sai, molto interessante Allora, italiano Me repele Ok, señores Come lo avevo annunciato anteriormente Hoy vamos a hablar de números Necesito Que me propongan Cómo van a crear Los números En sus idiomas Bueno Español Por qué no empezamos contigo? Eh, e tengo una propuesta Bien facile, eh? Uno 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 Dos Due Tres Tres Cuatro 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 No, no Yo primero Yo primero Yo, primero Porque yo puedo ser más complejo No, 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 no No, no, no Yo soy más complejo Mis números son los mejores Vamos a empezar Cuatro 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 69 40 99 40 40 Noi Noi Vandeburgo I'm a knife I'm a knife Another mistake I'm missing One, two, three It's my turn